Lascio la parola per una breve dichiarazione a sua eminenza il Cardinal Baldisseri. Buongiorno. Su incarico del Santo Padre, ho l'onore di comunicare quanto segue. Il Santo Padre, in data odierna, nomina Pro-Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, Sua Eccellenza Monsignor Mario Grech, Vescovo di Goso. Lo nomina altresì Amministratore Apostolico della Medesima Diocesi, sino alla provvista di un nuovo Vescovo. Il Pro-Segretario Generale, nell'assumere l'incarico, camminerà a fianco del Segretario Generale per prendere conoscenza diretta dell'istituzione e dei suoi componenti e acquisire consapevolezza dei processi e delle istanze di competenza. Espletirà il suo ufficio di Pro-Segretario Generale fino alla scadenza del mandato del Segretario Generale per assumerne l'incarico. Nella sua qualità di Pro-Segretario Generale parteciperà come membro all'imminente Assemblea Sinodale che avrà inizio il 6 ottobre. Grazie per l'attenzione. Buona giornata. Grazie.